Partiamo dal discorso del cancro, partiamo dal discorso di questa patologia che fa ancora paura anche soltanto a nominarla e anche per i medici stessi, utilizzare la parola cancro, utilizzare la parola tumore fa paura anche ai medici che la utilizzano e questo perché è qualcosa che effettivamente va contro al paradigma medico classico e cioè l'idea che la malattia provenga da qualcosa che viene da fuori, da un agente esterno che entra e genera uno stato di malessere. Nel cancro non succede questo, è una malattia che viene dall'interno. Idem le malattie degenerative di cui parleremo nella seconda parte della serata, quindi l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi multipla, patologie in cui non troviamo un agente patogeno, quello di Louis Pasteur che scopre il micobacterium della tubercolosi, non troviamo questo tipo di dinamica, troviamo qualcosa che a un certo punto si rompe in un equilibrio e comincia a dar luogo ad una degenerazione e quindi è il nemico da dentro. Cosa sappiamo oggi effettivamente su questa malattia? Prima di tutto, come vedete qua, che è una malattia sicuramente multifattoriale, quindi è legata a molti fattori diversi che interagiscono e poi ne parleremo e forse questo tutto sommato è anche abbastanza accettabile oggi. Ormai anche la medicina convenzionale si occupa del ruolo che l'alimentazione ha nella patologia tumorale, del ruolo che alcuni agenti inquinanti, atmosferici, ambientali hanno. Quindi questo aspetto di una multifattorialità e del fatto che di cancro non ce n'è uno solo, ma ce ne sono di tanti tipi e ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua tipologia, tutto sommato questa è un'idea direi già forse più facile da metabolizzare. Ma secondo aggettivo, psicosomatica, forse è un po' più hard, è un po' più forte, perché dire che il cancro è una malattia psicosomatica invece forse rompe ancora un paradigma, il paradigma non è forse oggi così ancora diffusivamente consapevole di questo. Eppure è assolutamente un dato che per un medico che lavora sul campo e come dicevamo l'altra volta, che è un medico integrato, cioè che non ha il paraocchi, è effettivamente un medico delle evidenze, nel senso che guarda le evidenze dei fatti, guarda quello che ha di fronte man mano. In tantissime situazioni di tumori si riscontrano dei traumi precedenti e il tumore è anche un emblema, è qualcosa che ha un senso, che ha una sua simbologia rispetto alla biografia di quella persona. E non solo, molti casi di guarigioni, che sono state anche indagate scientificamente, avevano all'interno proprio il nucleo di un processo di trasformazione, nel quale la malattia tumorale arrivava come l'estremo tentativo di riparazione di un conflitto. E nel momento in cui questo veniva compreso, quindi ad un livello appunto psicosomatico, avevano situazioni straordinarie di remissioni, addirittura di guarigioni, alcune delle quali sono aneddotiche, alcune invece sono state anche indagate scientificamente. Il medico integrato però è appunto un medico che di fronte anche al singolo caso che guarisce, si inizia ad interrogare, perché quello è un'evidenza, perché se anche una sola persona sconfigge una patologia che invece ha la meglio su tutti gli altri, beh quella persona per il medico integrato forse è più importante di tutte le statistiche e di tutti i campioni più numerosi che ci possono essere. Io, come vi dicevo, prima mi chiedevano delle slide, io in realtà in queste serate mi do anche degli input di libri, libri che anche per me sono stati occasione di riflessione, di crescita, libri o colleghi o persone che ho incontrato poi nel mio cammino. Qui ce n'è uno, Pier Mario Biavia, magari nessuno lo conosce, in realtà lui è un oncologo che lavora a Milano, assolutamente rintracciabile e che ha scritto un po' di anni fa questo libro bellissimo, anche il titolo va nella direzione della psicosomatica, il cancro e la ricerca del senso perduto. Lui si occupa soprattutto di tumori epatici e intestinali. E che cosa ha visto? Che effettivamente è come se le cellule che iniziano a riprodursi, a moltiplicarsi, non rispettando più certe regole di coabitazione reciproca, lo dicevamo l'altra volta quando abbiamo parlato del ruolo della membrana cellulare come un mezzo di comunicazione tra le cellule, che dice alle cellule quanto sono vicine le une alle altre, quanto devono rispettare i loro confini oppure no. Ecco, queste cellule che iniziano a moltiplicarsi perdono il senso, cioè perdono il senso di che cosa stanno facendo. È come se l'intelligenza cellulare a un certo punto venisse meno. E lui lo ha verificato con degli studi assolutamente scientifici, con una prospettiva organicista, lavorando sulle cellule staminali, andando a vedere quali sono i percorsi di differenziazione di queste cellule e di sdifferenziazione. Cioè, da un certo punto in poi, queste cellule non sanno più differenziarsi, è come se un bambino non raggiungesse mai un'evoluzione fino all'età adulta, ma rimanesse un bambino e facesse una vita da adulto rimanendo con le stesse strutture di un bambino, qualcosa del genere. Quello che lui ha fatto è di mettere un cocktail che viene venduto come un integratore, ma forse la parola integratore è poco, che ha un insieme di fattori che sono effettivamente dei fattori che interferiscono, che vanno a interagire con l'intelligenza cellulare in modo tale da riportare queste cellule a una differenziazione corretta. Sono diversi anni che lui si occupa di questo e ha ottenuto dei risultati ottimi sul tumore epatico e sul tumore dell'intestino. È un oncologo, lavora a Milano, quindi a me piace anche dare dei casi di medici che sono inseriti in un tessuto anche ordinario e non soltanto fuori dagli schemi o new age o sciamani, con tutto il rispetto che posso avere per quei filoni che però forse hanno il problema di essere poco digeribili da un sapere comune, che invece credo che sia importante che cominci ad avere dei concetti che in realtà sono sempre più fondati scientificamente. Con Gruppo Anima stiamo creando il progetto Ippocrate. Il progetto Ippocrate è l'idea di creare una directory, cioè un raggruppamento di medici integrati, che abbiano sicuramente un profilo scientifico, rigoroso, dei titoli assolutamente affidabili, che operino in maniera integrata e di dare alle persone la possibilità di ritrovarli, magari anche divisi per specialità, magari dislocati sul territorio nazionale, non necessariamente a Milano, perché io mi sono resa conto che, e l'ho vissuto da medico, l'ho vissuto anche da familiare, che nel momento in cui arriva questa diagnosi, questa diagnosi è destruente e blocca qualsiasi cosa. La paura ti tiene in pugno e quindi è difficilissimo avere la lucidità anche di fare una scelta diversa o di fare una scelta integrata, ma anche perché non c'è la possibilità di sapere a chi rivolgersi. I due requisiti fondamentali saranno la preparazione, cioè l'essere delle persone competenti dal punto di vista professionale e la deontologia, perché poi in questo campo sappiamo benissimo che non sempre l'etica è rispettata e non sempre l'aspetto deontologico è fondante, e invece questi sono due requisiti fondamentali. Per cui io cercherò di darvi anche degli input di medici che esistono, che sono veri, reali, non sono fantasmi e non sono neanche dei guru. E un altro paradigma da modificare, un'altra credenza su cui lavorare, perché poi vedremo che le credenze sono un elemento fondamentale della risposta alla malattia, cioè quali sono le nostre convinzioni, che molto spesso non sono convinzioni consce, cioè noi a livello conscio abbiamo una certa idea, ma poi dentro di noi, sotto a questa parte conscia, c'è una parte sommersa molto più ampia che quella del subconscio e che ha dentro delle convinzioni che sono tratte dalla nostra esperienza, ma anche da quello che ci hanno insegnato, ma anche da quello che è il nostro substrato culturale. E allora quanti di noi magari hanno letto un libro in cui era raccontata una storia di guarigione straordinaria e si sono entusiasmati, ma poi una parte di loro ha fatto eco e ha detto sì, ma chissà come ha fatto, figurati, poi scapitasse a me. Queste sono le convinzioni e queste convinzioni vengono dal fatto che effettivamente anche la stessa medicina convenzionale parla di prognosi in fausta, di malato terminale, di metastatizzazione, cioè di diagnosi che sono un po' dei verdetti. Allora, un punto cruciale su cui vi invito, perché poi queste serate sono sicuramente informative, però a me piacerebbe che fossero anche trasformative, non solo informative, a fare un piccolo esame dentro di voi. Siete qua, sicuramente se voi siete qua avete già un livello, un'apertura di consapevolezza maggiore perché siete stati attirati da questo ciclo, frequentate la libreria, quindi una parte di voi certamente è aperta a questo tipo di visione, però provate a chiedervi ma la mia concezione, cioè se mi capitasse domani, io come risponderei? Perché vedremo che un punto cruciale è la risposta della mente, ma lo vedremo anche da un punto di vista neurofisiologico. Io porto sempre l'esempio di un medico, un psichiatra, che curava i disturbi da identità multipla, cioè le persone che hanno le personalità multiple, uno dice cosa c'entra, adesso vi spiego. Lui aveva due pazienti e ha fatto un articolo con due case report, quindi assolutamente un articolo pubblicato su riviste scientifiche, questi due pazienti erano un uomo e una donna, avevano un disturbo da personalità multiple, avevano personalità A e personalità B. Lei aveva nella personalità A gli occhi castani, nella personalità B gli occhi azzurri perché era assolutamente convinta quando faceva la transizione in personalità B di avere gli occhi azzurri. Lui, il paziente maschio, aveva nella personalità A un diabete, nella personalità B era convinto di essere sano e non aveva alterazioni ematiche della glicemia. Cosa dice questo psichiatra? Che è fondamentale per lavorare su questo paradigma. Quando queste persone entravano nella personalità di tipo B, erano assolutamente convinte di essere come erano, cioè non c'era neppure un granello della loro mente che poneva la solita domanda, il solito dubbio, ma sarà proprio così? Erano assolutamente certe perché c'era uno switch della loro personalità, diventavano un altro. Allora, il punto è, sì io ci credo, certo vengo qua, leggo i libri, ma una parte di me dice sì, figurati, quello lì ce l'ha fatta, chissà poi perché, ma sarà un caso. Tutti questi sono in realtà dei commenti che il vostro dialogo interno fa e che minano la credenza. Ma perché ha una guarigione, soprattutto di questo tipo, cioè quando il sintomo riparatore, il tentativo di riparazione del corpo è già arrivato a una lesione di questo tipo, la convinzione, cioè l'assoluta certezza che questo possa accadere è un ingrediente fondamentale. E un compito del medico integrato dovrebbe essere quello di lavorare sul paziente, sulle sue credenze prima di tutto il resto. Questo libro è un libro che ha segnato direi proprio nei prodromi forse il mio destino successivo, perché io ero una studentessa di medicina al quinto anno, incontro questo professore di neurologia, lo raccontavo l'altra volta, che però scopro essere anche un ipnotista, io volevo già fare la psichiatra, ho fatto di tutto e di più, alla fine mi ha preso al corso di ipnosi medica che faceva per i laureati, anche se io non ero ancora laureata, e lui si occupava già i tempi di queste cose. E mi diede questo libro, non so se lo trovate ancora, Guarigioni straordinarie, scritto da una biochimica che è anche una giornalista, che è la Karil Hirschberg, e da Mark Iambaras, che era uno che aveva studiato medicina ma poi si è occupato di divulgazione scientifica. Il libro è molto bello perché loro cosa hanno fatto? Sono andati a vedere tutti i casi di guarigioni straordinarie, da tumori e da IDS, dove per gli IDS intendiamo persone che erano HIV positive ma non sviluppavano mai la sindrome. E casi che fossero documentati dal punto di vista medico, cioè che ci fossero delle cartelle mediche, che ci fossero delle documentazioni. E hanno cercato di capire che cosa effettivamente queste persone avessero fatto per riuscire a guarire. Cioè questi qui rispetto agli altri e hanno esaminato una serie di parametri, lo spirito combattivo, la fede, la fiducia nella preghiera, il cambiamento di alimentazione, il cambiamento di lavoro, il cambiamento a livello familiare. E che cosa hanno ricavato? Che in realtà non c'era un solo parametro, e quindi torniamo all'idea che il cancro è multifattoriale, ma quello che era in tutti replicato era la trasformazione. Cioè avevano modificato almeno una di queste cose nella loro vita. Ed era magari differente per ognuno di loro, perché ognuno di loro aveva un bisogno diverso. Ma avevano accolto la malattia come un'occasione, un'opportunità di trasformazione. E quindi quel segnale era stato preso come un avvertimento forte che era necessario lasciare andare qualcosa o modificare qualcosa. E questo non senza una grande difficoltà, una grande fatica, perché la malattia arriva a toccarti esattamente laddove tu sei più ancorato alle tue difese o sei più ancorato ai tuoi conflitti. E quindi erano dei percorsi anche, come dire, difficoltosi in molti casi. C'è un caso che viene riportato, questo penso lo conoscerete tutti, è un libro anche vecchio se vogliamo, perché è già più di 15 anni, direi, forse anche qualcosa in più, Deepak Chopra, Guarirsi da dentro. Forse uno dei migliori suoi libri, secondo me i primi libri di Deepak sono molto più consistenti, diciamo così, degli ultimi. E lui, tra i tanti, riporta questo caso famoso, documentato anche questo, due pazienti, reparto pneumologico, uno arriva, entrambi arrivano per una tosse, tosse secca, fastidiosa, fanno tutte le indagini, uno di questi arriva ed è convinto di avere un tumore, dice tanto ormai sicuramente aveva letto, aveva studiato articoli, l'altro invece si è spaventato ma sperava in bene. Questo paziente, il primo, in effetti aveva un tumore ma sbagliano a fare l'esame, invertono le cartelle, per cui gli dicono che non ha niente, che è una banale bronchite, questo felice perché aveva già pensato a fare testamento, felice esce e cambia un po' la sua vita, cioè dice va bene, allora visto che ho avuto questa bella notizia e temevo di essere malato, sai cosa c'è, mi dedico un po' di più alla mia famiglia, adesso vado a farmi un viaggio, modifica e a distanza di diverso tempo è ancora sano e sta bene. L'altro paziente che in realtà aveva la bronchite ma a cui danno la cartella con il referto di quell'altro, gli dicono guardi purtroppo c'è un tumore, quel paziente è morto e soltanto a posteriori si sono accorti dell'errore ed è documentato, questo si chiama effetto placebo o effetto nocebo, non è affatto trascurabile, purtroppo noi patiamo il significato, è stato un medico del 700 che ha dato questo nome, intendendo con il placebo l'idea del compiacere, cioè ti do, ti compiaccio, ti do qualcosa che fa piacere a te, più per farti piacere che per guarirti. In realtà l'effetto placebo è un effetto potentissimo, rende ragione del 30% dell'effetto terapeutico di qualsiasi farmaco, anche qua un medico integrato dovrebbe favorire il più possibile l'effetto placebo e quindi la comunicazione della diagnosi, tutto quello che è il rapporto medico-paziente dovrebbe essere rivisto alla luce di questo. E poi l'altro discorso è l'autoguarigione, cioè in fondo l'effetto placebo e le credenze sono delle leve di autoguarigione, modificano lo stato interiore, modificano le convinzioni, modificano le credenze, i vissuti rispetto alla malattia e uno potrebbe dire, va bene, ma questa roba è tutta aria, emozioni, pensieri, qui dov'è la scienza? Allora, noi sappiamo qualcosa oggi sull'autoguarigione e si chiamano neuropeptidi, si chiamano citochine, si chiamano ormoni, si chiamano cellule natural killers e via discorrendo. Adesso provo un po' a illustrarvele. Cioè, noi sappiamo che il nostro sistema immunitario, che è il nostro presidio di difesa, di protezione e di attacco rispetto a ciò che non va nel nostro corpo, sia che venga da fuori, sia che venga da dentro, di fatto è responsivo e reattivo alla nostra vita psichica, alla nostra vita emozionale. E non semplicemente perché lo deduciamo da dei casi, ma perché abbiamo tutta una branca della scienza medica che studia questo e che è ormai zeppa di evidenze, cioè non si possono non vedere ormai. E negli ultimi vent'anni effettivamente il tema centrale del nuovo paradigma medico sono state le emozioni. E perché? Perché quello che si è capito è che le emozioni non sono soltanto un fatto della mente o del cuore o dell'anima, come volete, ma sono un fatto corporeo. Questo è stato l'elemento che ha modificato nettamente il modo di fare medicina, anche il modo di fare psicoterapia. Perché il corpo è immediatamente tornato alla ribalta, non soltanto come una macchina, con un insieme di pezzi che se si guastano bisogna sistemare, ma come il teatro della nostra biografia. Biografia e biologia vanno di pari passo. Quello che sono i tuoi eventi, quelle che sono le tue esperienze, si segnano nella memoria del corpo, la segnano, la scrivono in qualche modo. E quante più esperienze tu sei riuscito a elaborare, a lasciare andare, tante più queste si liberano dal corpo. E tante invece più tu hai represso e hai in qualche modo trattenuto, e queste finiscono nel corpo. Questo vale per disturbi cosiddetti psicosomatici, questo vale per disturbi psichici, attacchi di panico o depressione, vale anche per le patologie organiche, cioè lo psicosomatico è anche somatopsichico, non esiste. Io ho il mio professore con cui collaboro in Canada, che è uno psichiatra, primo medico d'urgenza, poi uno psichiatra che si occupa di psicoterapia e neuroscienze, che durante un convegno ha una domanda in cui gli chiesero, ma quando lei lavora sui sintomi medici inspiegabili, perché noi lavoriamo su sintomi medici che non trovano ragione, non trovano diagnosi, e quindi noi lavoriamo sul versante emotivo, una delle cose che facciamo. E gli dice, ma secondo lei allora è una questione di psicosomatica o di somatopsichica? E lui disse, ma non c'è differenza, non posso rispondere a questa domanda perché non esiste. Negli ultimi 10-15 anni il focus è stato che cosa succede nella salute e nella malattia attraverso la chiave emozionale, cioè le emozioni che ruolo hanno nel determinare il nostro stato di benessere o di malessere, anche fisico. La questione riguarda il fatto che le emozioni sono direttamente correlate al nostro corpo, perché? Perché sono centrali per la nostra sopravvivenza. In realtà le emozioni sono delle risposte, prima di tutto, di sopravvivenza. Voi pensate, un uomo primitivo, se non avesse avuto, per esempio, la paura e non avesse saputo immagazzinare l'informazione che il rugito del leone equivaleva a pericolo, e non avesse avuto l'emozione che attivava, che cosa? I suoi muscoli perché lui potesse scappare, aumentava il battito cardiaco e la pressione sanguigna perché lui avesse ossigeno disponibile appunto per reagire e dilatava le sue pupille perché anche nella penombra potesse vedere meglio le ombre. L'emozione che provava di paura era il correlato diretto con l'impulso necessario a sopravvivere. Nel mondo animale, dai rettili ai mammiferi ovviamente c'è una maggiore complessità, ma adesso non voglio entrare nel merito della lezione di etologia, però nel mondo animale noi abbiamo delle emozioni primarie che sono come una bussola, sono come il marinaio che tende le vele in base a dove il vento tira, aggiustano la nostra rotta e quando noi perdiamo questo diventiamo persone poco capaci di gestire la nostra vita anche relazionale, siamo in dubbio, ma lo amo, non lo amo, faccio bene, faccio male e il nostro corpo risente di questo. Sono eventi fisiologici e hanno delle basi anatomiche, fisiologiche ben precise e questo noi ormai lo abbiamo ampiamente evidenziato, ampiamente dimostrato, non solo, le emozioni hanno anche dei patterns si dice, cioè hanno delle vie di scarico nel corpo. Noi siamo in grado oggi di definire tutti i patterns di espressione delle diverse emozioni, quindi la paura per esempio, e voi potete pensarci adesso, mentre io ve lo dico, provate a pensare alle vostre esperienze, è un'emozione inibente che blocca tutto quello che è la reattività della zona toracica, il fiato diventa corto, vi irrigidite e porta la tensione negli arti inferiori, perché nel passato, quando eravamo nelle caverne, ci serviva per fuggire. Viceversa la rabbia è come un calore, provate a pensare, che sale dall'addome e interessa tutta questa zona fino alle braccia, infatti quando uno si arrabbia a volte se non la blocca, se non la reprime, batte magari il pugno sul tavolo, lancia un oggetto, perché fa questo? Perché da un punto di vista evoluzionistico la rabbia serviva per attaccare e quindi ho bisogno di avere questo tipo di energia e così via. Quindi tra la mente, il corpo e l'anima ci stanno le emozioni, le emozioni sono come il 3 d'union, perché se tu sei triste, tu lo senti a livello della tua anima, lo senti a livello della tua mente, i tuoi pensieri cambiano e cosa succede? Che cominci ad avere un ripiegamento, il tono di voce si abbassa, lo sguardo anche, a livello ormonale tu cominci a produrre cortisolo, la serotonina si abbassa e c'è una risposta da stress nel tuo corpo. Quindi l'emozione media, due versanti, psichico e somatico. E quindi quando noi andiamo a lavorare sull'emozione, noi andiamo a lavorare contemporaneamente sui due versanti. E tra l'altro non ci interessa neanche sapere quale dei due è quello in prima linea, perché l'emozione nel momento in cui viene affrontata ed elaborata risana e l'uno e l'altro. E quindi è un lavoro estremamente pulito in realtà, perché è basato sul qui ed ora, cosa provi in questo momento e lo andiamo a far venire fuori. Quando viene fuori, immediatamente il corpo viene liberato da una morsa. Io questo lo sperimento quotidianamente nel mio lavoro. Ma dal punto di vista neurofisiologico, neuroscientifico, le emozioni hanno una sede? Sì, esiste un cervello emotivo che è all'interno del cervello e si chiama sistema limbico. La parte azzurra è la corteccia, come dico sempre quella che ci rende Homo sapiens sapiens, cioè la parte di tutti i processi logici, ragionamenti e la capacità di calcolo, ma anche le funzioni mentali superiori, la compassione, la riflessione. Però sotto noi abbiamo proprio un vero e proprio cervello nel cervello, che condividiamo con i mammiferi, quindi questo ce l'hanno anche la parte in mezzo colorata, che adesso vi spiego da cosa è fatta, ce l'hanno anche, non so, il nostro cagnolino, il nostro gattino, ed è la ragione per cui intrattengono con noi delle relazioni di attaccamento. Non si attaccano a noi soltanto perché gli diamo da mangiare, ma perché riconoscono la nostra voce, capiscono se li stiamo portando fuori a giocare o se noi stiamo uscendo senza di loro, calibrano i nostri gesti, perché hanno questo tipo di cervello, che ha una serie di parti. Amigdala, che è quella rossa, l'amigdala è la zona delle reazioni impulsive, è quella che risponde tra l'altro in circa 12 millisecondi, quindi rapidissima risponde a uno stimolo, e in 25 millisecondi la corteccia risponde, cioè cosa vuol dire? Che il vostro pensiero è sempre retrospettivo rispetto alla vostra esperienza corporea di quello stimolo, e quindi capite che il corpo è sempre in prima linea. È quella responsabile delle reazioni di paura o di rabbia, come si dice di attacco o fuga. Il talamo, quello viola diciamo, è quello che filtra tutti gli stimoli che provengono dall'esterno, in qualche modo li smista. Quello giallo tutto intorno è l'ippocampo. L'ippocampo è la sede della memoria, soprattutto della memoria biografica, e poi vediamo come è coinvolto nello stress. Ci sono altre aree del sistema limbico che adesso però non ci interessano, ne parlo nell'ultima serata, quindi non vi vado ad aggiungere altre cose, intanto teniamo buone quelle. Questo cervello emotivo lavora in maniera, per certi versi, persino indipendente dal resto del cervello, nel senso che i due dialogano, la corteccia può inibire le reazioni del sistema limbico, così si chiama, e il sistema limbico può mandare informazioni alla corteccia, ma il punto cruciale è che il sistema limbico si attiva prima, si attiva più in fretta, presiede alla vita neurovegetativa e ormonale, cioè dà messaggi al corpo, e oltretutto non capisce il linguaggio delle parole, ma capisce quello del corpo, cioè quando voi cercate di risolvere un'emozione riflettendoci sopra e ragionandoci sopra, voi non riuscite, anzi vi create dubbi e rimunginazioni, perché? Perché risponde in quest'area, che non è un'area in cui il pensiero, cioè le parole interne, funzionano, ma funzionano le sensazioni. Per questo hanno senso, e poi lo vedremo, tutte quelle terapie, come per esempio il metodo Simonton, che lavorano con le visualizzazioni, che lavorano con il sentire, con la percezione corporea nelle terapie integrate del cancro. Questo tanto per farvi vedere che la ricerca oggi ci permette di avere delle immagini, queste sono delle risonanze magnetiche funzionali poi elaborate in 3D, cioè in tre dimensioni, e il neuroimaging, cioè la possibilità di ottenere immagini del cervello mentre è in movimento, mentre funziona, hanno cambiato radicalmente il paradigma, perché noi possiamo vedere quali aree cerebrali si attivano, mentre una persona per esempio vede un'immagine bella o brutta, piange, sorride, pensa, parla, e quindi fare una correlazione scientificamente attendibile, statisticamente significativa, tra quello che è un'area cerebrale e un certo tipo di stato psicologico. Queste sono delle altre, tanto per darvi un'idea di quello che si può fare oggi, io sto cercando di applicare queste metodiche anche semplicemente allo screening, cioè quando una persona arriva da me, perché in America già lo fanno, cioè usano le tomografie, che sono per esempio queste, PET e SPECT, per valutare anche aree diverse che si attivano per esempio in un disturbo d'ansia, un disturbo d'ansia può provenire da diverse aree cerebrali, e questo aiuta anche poi la terapia, attualmente in Italia questi esami sono passati dal sistema sanitario nazionale solo per patologie gravi, considerate gravi, non che l'ansia non sia grave per chi la vive, ma patologie per esempio tumorali o patologie degenerative del sistema nervoso, però il futuro penso che andrà in quella direzione. E questo tanto per darvi l'idea di dove si può arrivare a ricostruire tridimensionalmente aree cerebrali. Andiamo più nel piccolo, allora sappiamo qual è il cervello emotivo che risponde a quella che è la stimolazione esterna o interna e guida la reazione corporea, ma gli effettori di questa risposta sono molecole piccolissime, peptidi, non sono neanche proteine, sono più piccole di una proteina, e se sono piccole, lo dicevo l'altra volta, quindi non risponde chi c'era non vale, cosa fanno se sono piccole? Qual è il loro vantaggio? Vanno dappertutto. Vanno dappertutto. Sono i neuropeptidi, sono le citochine. Queste sono quelle, qualcuno mi chiedeva il titolo del libro dell'altra volta, quelle di cui si parla nel libro, che io amo moltissimo, Molecole di emozioni, magari qualcuno l'ha già letto, se no leggetelo. Sono degli effettori, cioè sono dei messaggeri, vengono prodotte tanto dal sistema nervoso centrale quanto da molte altre cellule del nostro corpo, potenzialmente da tutte, e la cosa interessante è che trovano recettori contemporaneamente su più sistemi. Per esempio, un neuropeptide prodotto a livello cerebrale trova un recettore sui linfociti. Cosa vuol dire? Che il sistema nervoso centrale può comunicare col sistema immunitario, ma le citochine, per esempio infiammatorie prodotte dai linfociti, trovano recettori sui neuroni, cioè il neurone riceve informazioni dal sistema immunitario. E quindi in realtà è un network, dove le emozioni in qualche modo attivano una cascata di reazioni. Questo è un bellissimo studio, che tra l'altro è stato, è del gruppo appunto canadese, di cui fa parte anche il professore con cui io collaboro, in cui quello che si è visto è che il dolore fisico, proprio dolore fisico, e il dolore, che loro chiamano la social rejection, cioè l'isolamento, il dolore dato dal rifiuto o dall'isolamento o dalla solitudine. Quindi tutto quello che riguarda l'essere rifiutati, ma anche perdite, separazioni, traumi dell'attaccamento, distacco dalla famiglia, lutti, interessano la stessa area. Quindi c'è una corrispondenza altissima tra il dolore fisico e il dolore legato alla perdita delle relazioni. Perciò quando avete un dolore fisico, domandatevi quale perdita, quale esperienza di perdita o di rifiuto ci sta dietro. La branca di cui vi parlavo prima, che si occupa di tutto questo, è l'apnei. Lo dicevo l'altra volta, secondo me non si è diffusa, perché non si può dire psico, neuro, endocrino, immunologia, senza stufarsi. Per cui alla fine la gente o non se la ricorda, la rimuove, cioè paga il nome. Quindi pnei è più facile. L'apnei ha una storia lunghissima in realtà, perché già negli anni 50 e prima ancora negli anni 30, negli anni 50 è stata proprio la primissima formulazione del concetto di stress come fonte di patologia. Però già un certo Walter Cannon faceva degli studi sullo stress sugli animali per vedere la produzione di cortisolo, che noi sappiamo essere uno degli ormoni che agiscono a livello del sistema immunitario. È di fatto un immunosoppressore. Vi danno il cortisone, purtroppo, quando avete un'allergia, per esempio, per bloccare il sistema immunitario. Se lo stress aumenta la produzione di cortisolo, che è un immunosoppressore, il risultato qual è? Che quando sei stressato o depresso, o hai una serie di problematiche di stress emozionale, il tuo cortisolo aumenta, ovvero sì, il tuo sistema immunitario è più debole. E quindi capite il rapporto che esiste tra una depressione e l'insorgere di una malattia fisica. L'idea dello stress è un po' questa, cioè che noi abbiamo un sistema, che per fortuna è un sistema anche resistente, perché noi siamo costantemente bombardati da stimoli che sono stressanti. E da un certo punto di vista la vita è stressante. L'eustress, lo stress buono, è quello che ci permette di affrontare la vita. L'adrenalina che ci serve, ad esempio adesso, io sicuramente avrò le ghiandole surrenali che stanno producendo adrenalina. Parlo per due ore, l'adrenalina va in circolo, la mia pressione aumenta, io sono energica, pronta per parlarvi, poi finisco, vado a cena, mi rilasso, il mio sistema parasimpatico, che è come il freno nel corpo, mentre il simpatico è l'acceleratore, il sistema parasimpatico comincia a buttarmi in circolo la cetilcolina, mi fa venire fame, mi fa venire il bisogno di andare a fare la pipì, per esempio, che non avete quando siete sotto stress, perché dovete fare un'altra cosa, e a quel punto io mi rilasso e il mio sistema ha un relief. Ma se questo non accade, se il mio stimolo stressante continua giorno dopo giorno, e io non ho mai il rilascio del freno, del parasimpatico, e la nostra società con il bombardamento delle informazioni, le mail, i cellulari e tutto questo, è una società pro-sistema simpatico, adrenergica, siamo sempre in adrenalina, nostra soglia è di base adrenergica, a un certo punto il mio sistema si rompe. Qui ci sono due o tre diapositive, ma non voglio soffermarmi tanto, voglio solo che abbiate un'idea del fatto che adesso, questa siamo, cioè, vent'anni fa, 1992, un immunologo e uno psichiatra scrivevano nel trattato italiano di psichiatria un capitolo sullo stress, solo che queste cose non sono mai passate completamente nella pratica medica, e invece questo è quello che deve accadere. Qual è quel medico che chiede al suo paziente come l'attività sessuale, se sorride, se riesce a dedicarsi durante la giornata a un'attività piacevole, se porta in giro il cane o va a fare sport, qual è quel medico che nella prima visita vi chiede questo? No, qualcuno c'è per fortuna, però moltissimi no. Qual è quel medico che valuta i fattori di stress? Abbiamo fatto uno studio recentemente, carino, con l'Università di Pavia, sull'insorgenza, degli eventi cardiaci, cioè angine o eventi anche infarti o comunque sintomi riferiti all'area cardiaca, cardiocircolatoria, in un palazzo nel quale una persona, cioè uno dei condomini, aveva avuto effettivamente un evento di quel tipo, cardiocircolatorio. C'è un'impennata di eventi cardiocircolatori e di persone che si rivolgono al loro medico di base per problematiche di questo tipo o per sintomi o semplicemente con il dubbio di andare a fare un check up su questa cosa. Allora, un medico non può sapere, non può sognare, magari sì un domani avremo anche una comunicazione telepatica così elevata, per cui sapremo anche tutto quello che è il contesto del nostro paziente, ma magari non può sapere che in quella stessa settimana il suo vicino del quinto piano ha avuto un infarto e la signora della portineria gli ha detto ah ma ha saputo che il signore ha avuto un infarto e quello dopo due giorni inizia a sentire ma noi siamo tutti costantemente interrelati e i fattori stressanti sono potenzialmente infiniti. Da che cosa dipendono? Dal tipo di risposta che diamo noi. Non è stressante lo stimolo, è stressante la reazione. Allora, se per il signor Bianchi l'idea dell'infarto era terrorizzante perché anche il nonno l'aveva avuto e lui 40 anni prima aveva assistito alla morte del nonno, sapere che quello del quinto piano ha avuto un infarto è traumatico, per quello del terzo piano no, perché invece è tranquillo e lui va in palestra e quindi ha la credenza che andando in palestra il suo sistema cardiocircolatorio funziona benissimo. Allora, un medico non può sapere tutto questo, però stiamo pensando, siccome adesso è partito il corso di perfezionamento in coordinatori di medicina integrata all'Università di Pavia, di creare una cartella, una piccola, non troppo pesante, però piccola cartella clinica come questionario di autosomministrazione che si dà al paziente, che tutti i medici di base danno al paziente, in cui il paziente segna con delle semplici crocette fattori stressanti, in modo che il medico abbia la possibilità di fare uno screening, ma fattori stressanti che comprendono anche avere la radiotelevisione RAI a 200 metri e sappiamo che emette onde, per esempio. Cioè, uno screening ad ampio raggio. Questo è ancora più complesso, se volete, ma in realtà no. Lo vediamo meglio dopo. La cosa che mi interessava farvi vedere è che il cortisolo che viene prodotto dalla corteccia surrenale viene regolato dal cervello, dall'ipotalamo e dall'ipofisi. Ipotalamo e ipofisi cosa fanno? Sono i regolatori delle risposte ormonali nel nostro corpo, di tutte le risposte ormonali, cioè regolano tutte le ghiandole, pancreas, pegato, mandano dei fattori di rilascio e gli dicono alla ghiandola produci il tuo ormone e la ghiandola lo fa. Notate bene che, come vedete sulla destra, linfociti e macrofagi, cioè cellule del sistema immunitario, interagiscono e a loro volta ricevono un feedback da questo sistema. Come dire? Che anche nella regolazione ormonale il sistema immunitario e il sistema nervoso parlano. Sistema nervoso, sistema endocrino, sistema immunitario. Come vedete, hanno, si dice, un meccanismo di feedback, cioè sono sempre, costantemente in dialogo l'uno con l'altro e la reazione dell'uno fa feedback sull'altro e viceversa. E il cancro cosa fa? Avete presente il cavallo di Troia? Cos'è servito il cavallo di Troia? Per entrare? Senza? Farsi vedere. Ecco, il cancro fa questo dal punto di vista dell'apnei, della psico-neuro-endocrinologia. Che cosa fa? Sfrutta il meccanismo dell'infiammazione che è un punto centrale che stasera dovete a prendere. L'infiammazione ha un doppio volto. L'infiammazione sarebbe una risposta fisiologica. È quella che serve per ripristinare un equilibrio. Vi viene il virus, vi si infiammano le mucose. Cosa vuol dire che si infiammano? Che comincia ad arrivare ad esserci un edema, si gonfiano perché i vasi devono essere più grossi per portare più afflusso di cellule del sistema immunitario in quella sede. Comincia a produrre il muco, per esempio, perché il muco ingloberà i patogeni e farà in modo che vengano espulsi. Comincia tutto un sistema di attivazione, la febbre per esempio. Perché la febbre? Si alza la temperatura perché alzandosi la temperatura alcuni patogeni tra l'altro con una temperatura più alta non resistono. Cioè, la risposta flogistica, infiammatoria è una risposta deputata alla salute. ma se l'infiammazione è cronica cioè se lo stress è cronico che cosa succede? Che tutti quei meccanismi che nell'infiammazione si attivano e quindi mutamento della regolazione ormonale, mutamento della comunicazione tra sistema nervoso centrale e sistema immunitario, produzione di radicali liberi dopo ne parleremo, radicali liberi sono delle molecole instabili che si degano ad altre molecole e le disattivano. Certo che radicali liberi servono durante l'infiammazione per far fuori un patogeno ma se l'infiammazione manco c'è se il patogeno non c'è il patogeno è che sei stufo del tuo lavoro e ti senti impotente nel poterlo modificare o il patogeno è che non hai mai superato il rancore nei confronti di tuo fratello perché secondo te ha avuto più di te da parte dei tuoi genitori in vento. Se lo stimolo stressante è interno ed è duraturo a un certo punto tutto l'assetto del corpo si sposta da una reazione che doveva essere puntiforme acuta ed essere semplicemente una risposta di modifica di trasformazione e ripristino dell'equilibrio siamo sempre attivati e quando succede questo tutta la vita cellulare cambia perché se noi siamo in flogosi se noi siamo nell'infiammazione non ci interessa di regolare alcune vie ci interessa di fare infiammazione di fare flogosi di far proliferare cellule del sistema immunitario di far proliferare delle cellule della mucosa perché dobbiamo avere possibilità di reagire a una certa ferita a un certo stimolo appunto pro-flogistico e quindi tutti i meccanismi di regolazione della vita cellulare si alterano ed ecco che alcune cellule cominciano a non essere più regolate come prima e quindi dall'infiammazione comincia a esserci una sdifferenziazione cellulare perché c'è un pericolo e allora se c'è un pericolo io non mi devo in guerra la gente non è che si preoccupasse più di tanto di vestirsi bene per uscire al pomeriggio a fare una passeggiata probabilmente si preoccupava di evitare i bombardamenti e quindi tutto il resto veniva meno quindi siamo in uno stato di allerta di attivazione del nostro sistema e lì è più facile che i meccanismi di disregolazione che abitualmente ci sono ma che vengono bloccati da un sistema immunitario che pattuglia il nostro corpo invece in quel momento è più facile che questo non accada perché tutto quello che è l'attivazione immunitaria è spostata su uno stimolo flogistico che di fatto non c'è o se c'è è dato da una situazione cronica dentro di noi quindi è fondamentale valutare il grado di infiammazione come si fa? ne parlavo l'altra volta ci sono degli esami che si possono fare si può valutare lo stress ossidativo su sangue si può valutare il pattern lipidico andare a vedere la perossidazione lipidica ci sono dei pannelli di esami ematici che possono essere fatti oggi e si possono richiedere non sono passati dal sistema sanitario nazionale al momento però alcuni non sono ce ne sono alcuni molto costosi ma altri no per esempio la stima delle sottopopolazioni linfocitarie che però si fa se c'è già una malattia tumorale per capire quali linee stanno rispondendo o meno è molto costosa però esami più di screening di valutazione dello stato di stress ossidativo invece sono direi alla portata basta che un medico li prescriva e mandi la persona quindi lo stress è come la benzina sul fuoco più ce n'è e più il fuoco si alimenta c'è un fattore interessantissimo che è l'NFKB ve lo dico perché ci sono degli alimenti che bloccano l'NFKB che dopo vi dico e questo è un fattore di crescita cellulare e quindi agisce nel mediare la proliferazione cellulare incontrollata il punto è che il terreno è tutto qui non siamo più di fronte a una situazione in cui arriva qualcosa dall'esterno e agisce ma siamo in una situazione in cui è lo stato di benessere o di malessere del sistema generale cioè del terreno questo lo diceva Claude Barnard il pastor diceva no tutto è dato dal micobatterio della tubercolosi chi lo diceva ma non è vero perché su dieci persone otto si ammaleranno e due no per dire quelle due dipende dal terreno se il patogeno trova spazio e trova strada allora può dare la malattia in questo caso che addirittura il patogeno è interno veramente il terreno è tutto quanto è infiammato il tuo organismo quanto riesci a detossificarlo o quanto no qui siamo su fasi del ciclo cellulare cioè quando una cellula si replica si divide si moltiplica e noi sappiamo quali fattori genici dove agiscono e idem questa lo stress agisce su più livelli perché c'è un'azione cellulare che è mediata dagli ormoni e dalle citochine e poi c'è l'azione che è mediata a livello cerebrale e a livello muscolare quando voi siete stressati il vostro testa rimungina e il cervello tradurrà questo nuovamente in citochine e neuropeptidi che andranno nuovamente sui tessuti ma anche siete tesi dovete scaricare della tensione e nuovamente anche dai muscoli partono dei segnali di feedback che arrivano al cervello che a loro volta vanno sulle cellule cioè si mette in moto tutto un sistema globale ci sono degli studi bellissimi su citochine e depressione cioè quanto la depressione modifica il pannello delle citochine cioè di quelle sostanze che il sistema immunitario produce e come fa passare il sistema da citochine diciamo così dello stato di quiete a citochine pro-infiammatorie la febbre per esempio vi viene perché c'è un interferone una citochina che si chiama interferone che viene immessa in circolo e che fa alzare la temperatura per esempio io ho casi anche di ragazze giovani con le febbricole non c'è niente non hanno nessuna patologia per fortuna ma hanno la febbricola la citochina infiammatoria è stata messa in circolo in risposta a uno stimolo stressante in quel caso per esempio era una ragazza carinissima studentessa di liceo che si era infilata in una relazione con un compagno di classe come se fossero sposati e si sentiva soffocare ma non riusciva a lasciarlo quando noi abbiamo affrontato questo aspetto e anche tutta la difficoltà che lei sentiva proprio nel prendere quella posizione la paura che aveva ormai erano in casa da due anni una situazione è passata la febbricola quindi l'infiammazione a un certo punto comincia a essere come il partenone che va a pezzi e dentro in quelle in quelle scalfiture lì si iniziano ad insinuare dei processi di tipo patologico ci sono tantissime evidenze sul ruolo diciamo dell'infiammazione nel cancro qui ce ne sono solo alcune ma sono state studiate moltissimo nella comparto gastroenterico quindi elicobacter pylori per esempio che adesso è al centro di una polemica perché in moltissime gastriti o ulcere in realtà è presente ma è presente anche in persone che non sviluppano gastriti o ulcere le malattie di Crohn tutte le patologie infiammatorie intestinali sono collegate a un tasso più alto di insorgenza di tumori e in tutti questi casi quel famoso NFKB che può essere bloccato con alcuni alimenti con l'implementazione di alcuni alimenti era centrale nel far progredire è un agente pro-infiammatorio dice alla cellula produci proteine infiammatorie ci sono anche alimenti adesso poi li vediamo che sono in grado di bloccare un altro processo tramite il quale il cancro si fa strada e prolifera che è il processo di regolazione vascolare questo Falkwan che venne preso per un sacco di tempo come un pazzo aveva provato a inoculare una cosa un po' schifosa però ad altronde ai tempi una tiroide di coniglio e invece in un coniglio purtroppo ringraziamo gli animali che si sono prestati per tanto tempo ancora oggi lo fanno e ci regalano la loro natura per fare degli esperimenti su di loro anche se oggi è possibile non utilizzarli più e quindi bisognerebbe cominciare a non utilizzarli più da nessuna parte comunque ai tempi nella tiroide di coniglio e nel coniglio in vivo aveva inoculato un agente cancerogeno per la tiroide e cosa ha visto? che inoculandolo nella tiroide si formava un microtumore che non proliferava mentre nel coniglio vivo sì uno diceva bella scoperta è ovvio uno era vivo e l'altro no ma quell'organo era tenuto in una condizione tale per cui c'erano nutrienti c'era cioè avrebbe potuto poteva essere un terreno su cui si poteva sviluppare e Folkman cosa capì? che la differenza era che comunque quella tiroide non poteva quella tiroide isolata del coniglio non poteva sviluppare nuovi vasi sanguigni questo non era possibile in un organo separato dal resto e lui ha l'intuizione lì capisce che la cellula tumorale dopo che ha iniziato a proliferarsi per aumentare la sua massa che cosa fa? produce nuovi vasi sanguigni si vascolarizza che poi è la base del processo metastatico perché attraverso la vascolarizzazione chiaramente e anche attraverso il sistema immunitario attraverso i linfonodi ma attraverso la vascolarizzazione chiaramente la cellula può girare e lui ha trovato questa cosa interessantissima che appunto le cellule comunicano e comunicano attraverso questi due fattori che sono angiogenina e angiostatina come dice il nome una va a produrre vasi l'altra li blocca quando lui riusciva a bloccare tramite l'angiostatina cioè inoculando angiostatina nel tessuto anche in vivo il tumore regrediva ci sono degli alimenti che sono in grado di attivare l'angiostatina oggi ci sono anche delle terapie biologiche per alcuni tumori a base di angiostatina la somatostatina anche il nome lo dice non fa solo quello ma faceva anche aveva anche questo tipo di effetto grazie a tutti grazie a tutti